Bene, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo la possibilità di avere con noi il professore Ishida Masayoshi, che è stato il fondatore di SoFu Japan, un grande attivista, oltre che un docente universitario di una delle più importanti università di Tokyo, poi vi dirà lui esattamente, farà una breve introduzione anche su questo. Ovviamente noi dobbiamo farlo in modalità di registrazione, perché il fuso orario è molto particolare, ci sono otto ore di differenza, per cui non era possibile ovviamente impegnare il collega in una conferenza alle 18 ore italiana, se vorrebbe dire le due di notte in Giappone. Quindi abbiamo optato per questa modalità di registrazione. Quindi ora vi parlerà un po' di quello che è la situazione attuale del cibo e del movimento di Slow Food in Giappone, anche rispetto a quello che è stato un po', diciamo, i problemi legati al colpo. Quindi io ringrazio molto il collega, il professore Ishida, e le cedo la parola, come sempre, per circa 40-45 minuti. Grazie mille. Grazie professor Colvo, mi fa un grande onore di essere qua a parlare della mia esperienza. Purtroppo io non parlo tanto bene l'inglese, tutti gli staff della sede di Slow Food mi riconosceranno come uno che non parla inglese. Posso fare anche una sforzatura tremenda, ma non capite forse. Quindi ho preferito di parlare in italiano, quindi spero che capiscano anche quelli che non parlano, non capiscono l'italiano, ma fate una sforzatura anche da vostra parte per capire questa lingua che utilizzerete fuori dalla vostra università, di sicuro. Un po' di allettanza forse. Allora, mi chiamo Masayoshi Ishida. Se mi riconoscete da parte vostra, forse quelli che lavorano alla sede di Slow Food a Bra, sono stato il referente per il movimento giapponese, che si chiamava Slow Food Japan. È stato fondato nell'anno 2004, fu finito nell'anno 2015, mi sembra. E poi successivamente un altro gruppo dei giovani è subentrato questa associazione e siamo andati praticamente in pensione. Abbiamo avuto un'epoca d'oro da 2000-2001, quell'anno, quando c'è stata una mega manifestazione italiana in Giappone, addirittura si chiamava l'Italia in Giappone 2001. Hanno organizzato più di 370 eventi, manifestazioni, mostre d'arte, tutte queste cose hanno contato 370. Vuol dire più di un evento nell'anno hanno organizzato. Quindi c'è stato un boom della cultura italiana, questo è vero. L'associazione, l'arrivo di Slow Food è stato proprio precisamente in quel momento. Quindi l'italianità dell'associazione è stata sempre la carta vincente per andare avanti in Giappone. Abbiamo avuto subito una marea di soci che erano ispirati all'idea di Slow Food, oppure semplicemente il nome di Slow Food. Abbiamo avuto dei fenomeni strani, tipo questo qui è stato anche un boom puro. Vuol dire, tanti mi chiedevano, ma siamo associati, ma cosa fare? Non sappiamo cosa fare. Ditemi cosa faccio. Quindi questo nome di Slow Food è stata anche una cosa vincente. Slow era sinonimo della libertà, o sinonimo di antimodernismo, o qualcosa di positivo comunque. Poi ho detto, la italianità del movimento è stata carta vincente. È vero, perché è un metodo, una metodologia della nuova gastronomia che poteva cambiare il mondo, ma arriva dall'Italia. era già abbastanza convincente. Slow Food Japan è iniziato così, nell'anno 2004, con tanti soci contati. Siamo stati alla fine al secondo posto come numero di soci nel mondo, dopo l'Italia, tedesca, dopo Germania, non mi ricordo. Abbiamo avuto successione. Poi è stato un boom dell'italianità, quindi i primi soci erano importatori del vino o conoscitori del vino della gastronomia italiana, quelli filoitaliani erano. Poi molti volevano approfittare al campo commerciale con il Slow Food. Con il nome di Slow Food volevano fare il commercio. Questo è vero. Mano a mano abbiamo condotto varie idee, eventi o propaganda che abbiamo lanciato alla scala internazionale, tipo Arca del Gusto, Presidio, o Salone del Gusto, o Terra Madre. Queste cose hanno un po' addirizzato la situazione. Cominciavano ad arrivare i soci più seri, quelli che capiscono meglio la teoria, la filosofia dell'associazione. Possiamo chiamare finalmente gli attivisti, i veri attivisti dell'associazione. Quindi questi produttori oppure attivisti o quelli che scrivevano il libro, articoli, cominciavano a fare il vero Slow Food. Questo è vero. Anche ha avuto certo successo a elencare i prodotti alimentari sulla lista dell'Arca del Gusto, per esempio. Abbiamo contato subito una quarantina, mi sembra, se non sbaglio. Quindi Presidio ne abbiamo avuto solo uno. Non ha avuto tanto successo. perché questa idea di riconoscere il prodotto, di conoscere il prodotto e fare l'elenco dei prodotti che stanno in via di distinzione non bastavano per i giapponesi. Naturalmente a distanza di 10.000 km la gente difficilmente capiva questa idea. Molti volevano avere un riconoscimento o un certificato da parte dell'associazione. È vero. Solo che a quell'epoca era vietato mettere il marchio di Slow Food sul prodotto, come sapete anche voi. Un adesivo sul riso, un adesivo sulla bottiglia del sake sarebbe stato carino. Solo che abbiamo vietato questa cosa. Abbiamo vietato di rilasciare nemmeno un certificato. Questo qui ha avuto un po' di problema diplomatico, tipo quando veniva un gruppo dei politici o imprenditori di certo livello che spingevano proprio il prodotto. Ah, comunque è valido. Dopo il riconoscimento naturalmente insistevano qualche riconoscimento visibile. Abbiamo detto sempre. Volevamo applicare perfettamente l'idea di Slow Food sulla realtà giapponese, ma a volte è andato un po' storto. Alla fine, questa idea di riconoscere il prodotto alimentare, concettualmente possiamo dire, abbiamo dovuto modificare un po', vuol dire abbiamo alla fine rilasciato il certificato con il marchio di Slow Food. Ma forse siamo stati i primi a fare questa cosa e poi anche gli altri hanno seguito. Come vedete voi, nello scaffalo di Italy ci sono ormai dei prodotti con marchio della fondazione questa volta, a pagamento, come ho sentito io. Quindi questa identificazione o riconoscimento ufficiale da parte di Slow Food non si poteva fare, ma hanno voluto tutti quanti. Allora, parlando della nostra università e soprattutto della nostra facoltà di gastronomia, abbiamo messo in inglese College of Gastronomy Management. Come da voi abbiamo avuto subito la difficoltà di far riconoscere il Ministero dell'Educazione, perché come anche Savalán storicamente era in difficoltà di riconoscere come una materia accademica ufficiale la faccenda gastronomica. Anche noi, anche gli italiani, abbiamo avuto sempre il problema di alzare il livello accademico, il livello dello studio della gastronomia. Prima di tutto abbiamo voluto utilizzare il nome di scienze gastronomiche, in giapponese Shoku Kanaku, sono stato io a tradurre in giapponese. Non è piaciuto a nessuno del Ministero perché, come dicono loro, la gastronomia non è la scienza. Se mettete la scienza, sarebbe scienza nel laboratorio, scienza nutrizionista o cose così via. Quindi i funzionali del Ministero dell'Educazione ci hanno vietato di utilizzare questo termine di scienze. Allora cosa facciamo? Abbiamo voluto comunque inventare una facoltà per la prima volta in Giappone dedicata alla faccenda del cibo. Come si fa? Come è successo anche a Pollenzo, abbiamo dovuto fondare questa facoltà su una materia già riconosciuta. A Pollenzo c'è stata l'agronomia, se non sbaglio, per fondare le scienze gastronomiche. Noi siamo stati sulla economia come la materia. Quindi abbiamo dovuto scrivere questa facoltà a realizzare una piattaforma dello studio sulla base di economia. Abbiamo dovuto dire così, quindi non abbiamo pronunciato nemmeno scienza o la gastronomia. Abbiamo utilizzato sul nome inglese come College of Gastronomy Management, ma abbiamo dovuto mettere management per appostare all'economia. Mano a mano volevamo realizzare una piattaforma come quella di Pollenzo, dove si incontrano varie materie accademiche in un posto per amalgamare l'ambiente dello studio sulla gastronomia. Quindi ci sono degli studiosi, ricercatori, professori, che hanno una specialità, tutti diversi. C'è un antropologo, o storico, o attivista, o c'è anche un medico. C'è tutto di tutto. Quelli che studiano marketing, oppure studiano come fare il packaging, o come si fa la pubblicità, è stata, in inglese si diceva melting pot, anche Carlo Petrini diceva, una pentola dove vengono cucinati varie cose in complessità e poi si vedrà dopo cosa si cucinava, si avrebbe cucinato. Questa confusione, oppure complessità, come è stata pronunciata da parte di Cardin, non è piaciuto ai politici, ai funzionari, o al ministero, forse anche voi avete avuto questa difficoltà. L'università, l'università di oggi, bisogna spiegare ai genitori che pagano questi figliori cosa diventano. Bisogna specificare sempre con certa chiarezza. Quelli che studiano da noi, cosa fanno nel futuro, dopo laurea cosa fanno? L'università di scienze gastronomiche di Polenzo diceva una volta, sì sì, questo qui studiera tutto di tutto. studiera la cultura gastronomica all'agio di 360 gradi, cioè tutto di tutto, voleva dire. Allora, cosa significa tutto della gastronomia? Studieranno, studieranno, diventeranno nutrizionisti o economici o preattivisti o giornalisti, non si sa mai. Solo che per ogni materia studieranno un po', un po'. Cioè, non si specializza a unica materia, unico unico titolo. Quelli che si laureano alla facoltà di scienze gastronomiche non diventano economici o storico, oppure antropologo, cioè solo con una specialità. Questo qui, all'inizio dell'università di Polenzo si spiegava in questa maniera. Gli studenti saranno una specie di centrocampista. Cioè, prendono la palla dagli altri, riesce a passare agli altri, è capace di fare anche il gol. Cioè, uno che fa tutto. Una parola di oggi si chiama una specie di generalista, da noi si chiama così. Ma generalista non è un specialista accademico, come abbiamo ideato sempre nel ventesimo secolo. Questa specialità è generale. Potrebbe essere come un direttore dell'orchestra. Il direttore dell'orchestra non è violinista, non è contrabassista o trompetta, non suona trompetta. Insomma, solo che è una figura che capisce tutto, capisce la difficoltà di questo passaggio di Dobrojack, o Blams o violoncialista, avranno massima presenza in questo momento. Cioè, bisognerebbe capire la natura di tutti quelli che lavorano con lui. Uno che tutela, riesce a tutelare il complesso della gente, capendo la specialità e la natura di ogni individuo che fa parte di questo gruppo. Come è stato spiegato all'inizio dell'Università di Pollenzo? Sì, è vero che noi abbiamo spiegato con la battaglia di samurai, per esempio, cioè quelli che arrivano nel campo di battaglia con la lancia, con l'arco oppure con il cannone. Cioè, ognuno dovrebbe avere la specialità, ma ci vuole anche qualcuno che coordina tutta la frutta dei samurai. Questa figura dovrebbe capire come si fa il lancia, come si fa il cannone, come si infiamma il polvere di cannone, queste cose. Ci voleva una figura che coordina l'ambiente o l'ambito accademico, questa volta. L'idea prima non è passata per niente perché, come ho spiegato prima, ci vuole una spiegazione più precisa per far capire alla gente che i studenti cosa diventano. Guarda, noi abbiamo già organizzato due conferenze in Giappone con la presenza del professor Nicola Perullo. Dopo la conferenza abbiamo fatto un po' di discussione libera, tabola rotonda. C'è stato uno che ha fatto solita domanda. Gli studenti cosa fanno nel futuro? E non abbiamo ancora avuto i laureati che stanno studiando. A quell'epoca avevamo soltanto gli studenti del primo anno. Abbiamo detto sì, 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 sì. Noi non siamo riusciti a spiegare alla fine, solo che il professor Perullo ha detto una cosa abbastanza interessante. Mi è piaciuto, è piaciuto a tutti questa cosa. Cioè, noi stiamo proponendo una nuova figura dei studenti. Stiamo proponendo alla società nuova figura dei professionisti. Non è che noi stiamo facendo la formazione degli studenti che si adattano alla realtà che esiste già. Quindi questo sarebbe il nostro obiettivo e la nostra spiegazione ufficiale. Solo che se pronunciamo noi suscitiamo un po' di polemiche in Giappone. Abbiamo fatto bene. Allora, la multidisciplinarità, come abbiamo definito la natura dell'Università di Scienze Gastronomiche, è molto affascinante comunque. Prima di tutto la reazione positiva, la prima reazione positiva è stata sempre tra i docenti, i professori. Perchè noi abbiamo una trentina. Questo tagliamo dopo. Facciamo molto. C'è il mio figlio che mi sta chiamando. Masao, ora loco... 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 Questa parte tagliate, tanto non capisco comunque. Mio figlio mi sta chiedendo di venire sopra a mangiare un gelato insieme. Mi avevi promesso... Comunque... Fino a dove siamo arrivati? Allora, la multidisciplinarità. È una disciplina che copre l'ambito di gastronomia al 360%. È vero. Mi ricordo quando c'è stata l'inaugurazione di Paul Lenzo, c'è stato un articolo della rivista inglese, se mi ricordo, intitolato, l'articolo era intitolato, l'università che insegna tutto sulla gastronomia, tranne la cucina. È vero. Abbiamo pubblicizzato sempre questa nuova università di Paul Lenzo come una università dove si studia tutto di tutto sulla gastronomia, ma la cucina è stata sempre una cosa mancante, completamente mancante. È vero che nel campus di Colorno, nella stessa struttura storica di Colorno, c'era anche una scuola arberughiera, ALMA, che poteva far parte, non poteva coprire la parte della cucina pratica, ma mi sembra che non sia andata così. Allora, noi abbiamo attivato anche questo perché abbiamo voluto inserire lo studio della cucina, cioè la cucina, facciamo cucinare gli studenti prima di tutto. Allora, il primo tentativo è stato il corso di Cookpad TV, è un portal di ricette di ogni paese. Ogni paese dovrebbe avere la pagina in propria lingua per costruire le ricette che vengono caricate dai lettori. Come la metodologia è un po' simile a quella di Arturo Pellegrino Artusi, che richiamava i lettori per mandare la cartolina, per proporre la loro ricetta. Abbiamo fatto una lezione, purtroppo per il Covid l'anno scorso non siamo riusciti a farlo, ma è un corso di cucina, ma non qualsiasi. Cucina da fotografare e caricare su Instagram. La lezione aveva un obiettivo molto preciso, come si fa ad avere grande successo su Instagram parlando della cucina. Quindi abbiamo parlato del marketing per acchiappare i lettori corretti, destinati all'argomento, cioè bisogna calcolare, domanda e offerta. E poi bisogna fotografare in questa maniera, cioè come inquadrare da quell'angolo. Tutte queste cose pratiche abbiamo fatto con il presidente dell'azienda Cucupad Japan. Ha avuto abbastanza... ha avuto successione della verità, veramente. Uno studente, lo studente più bravo, ha avuto un lavoro con Cucupad. Quindi forse anche quest'anno non li faremo, ma vediamo. E poi stiamo parlando sempre della pratica culinaria, parleremo del nostro forno napoletano per fare la pizza napoletana. Perché io avevo un regame stretto, storico, di amicizia con l'associazione verace di pizza napoletana. Perché venti anni fa sono stato io a fare consulente o coordinatore per realizzare la prima pizzeria napoletana riconosciuta da quell'associazione AVPN, si chiama. Associazione Verace Pizza Napoletana, si chiama. Quindi sono stato sempre con loro. Quando stavamo per aprire, iniziare il nuovo, il primo anno accademico, ho chiesto all'associazione potete contribuire in qualche maniera, simpatica anche. E ho detto francamente, ma potete mandare un forno napoletano da Napoli, oppure mandate gli artigiani a far costruire in Giappone un forno professionale. E' stato settembre dell'anno 2017, è stata una chiacchierata, solo che hanno detto sì, sì, lo faremo. E subito sono passati sei mesi senza scambiarsi opinioni o senza fare delle pratiche, ma sono passati subito. Sei mesi, poi mi hanno chiamato e lo facciamo pure, insomma, l'inaugurazione della facoltà si avvicinava già. Non possiamo avere gli artigiani napoletani in Giappone per costruire. Il forno c'è già in Giappone, dal nostro rivenditore in Giappone, era fortunatamente abbastanza vicino. Abbiamo preso da lì. E' un forno intero, professionale, che pesa tre tonnellate. E' stata una cosa faticosa a portare fino al campus e installare nel posto dove si poteva usare il forno con il fuoco. Era vietatissimo nel campus per fare una cosa del genere, quindi abbiamo dovuto scavarcare tutte le barriere burocratiche per far dire di sì da parte di professori che hanno la competenza decisionale. E' stata lunghissima procedura, ma ce l'abbiamo fatta alla fine. Nel giorno di inaugurazione sono venuti i dirigenti napoletani a inaugurare la nostra facoltà, sfornando le pizze napoletane con la presenza di uno dei migliori pizzaioli napoletani simpatici. E' stato un bellissimo momento. Per aggiungere uno studio culinario abbiamo scelto la pizza napoletana perché la pizza napoletana aveva appena preso il riconoscimento UNESCO. La presentazione o il momento del riconoscimento UNESCO è stato stato in Corea, sull'isola di Cheju. Sono andati tanti pizzaioli giapponesi a festeggiare, lo sapevano già loro. Quindi l'interesse mediatico era accumulato a quel momento. Quindi abbiamo accorto questo momento giusto per lanciare l'idea di avere un forno napoletano all'interno dell'università. E per passare questa idea pazzesca dal punto di vista universitaria, i burocratici, ho detto ma guarda anche l'università di Polenzo ce l'ha, ma non era vero. Non c'avete adesso ancora elettrico. Comunque è passata l'idea. Ormai i nostri ragazzi, almeno dieci ragazzi del terzo anno, riescono a fare la pizza napoletana a livello professionale. Quattro sono andati a Napoli a studiare pizza napoletana, frequentando per una settimana la scuola di pizza napoletana all'interno dell'associazione. Era quasi l'ultimo momento in cui si poteva viaggiare per l'Italia. Poi siamo tornati indietro, è scattato subito quell'epidemia più seria in Italia. Da lì non siamo stati in Italia, ma guarda, ci sentiamo un grande mancanza del nostro paese, veramente. Allora, si parla dell'epidemia, quindi, di Covid. È vero che abbiamo avuto anche noi il problema del Covid, solo che rispetto alla realtà italiana è molto meno, perché sia il numero dei morti o contagiati è molto minore di quella realtà europea. Questo è vero, solo che non possiamo avvassare la guardia, che non si sa mai. Sta arrivando anche la variante da tutto il mondo, quel famoso brasiliano portato da quattro turisti dal Brasile. Proprio in questo momento hanno viaggiato in Brasile, non so perché. Quindi, abbiamo avuto un anno difficile comunque, come sapete voi forse. Il nostro anno accademico inizia con la fioritura di ciliegi, vuol dire dall'inizio di aprile, poi finisce all'ultimo giorno di marzo. Abbiamo avuto un anno accademico veramente difficile, perché si sperava di vedere la finita di questa epidemia piuttosto presto, ma non è andata così. che prevedevamo, eravamo nella vacanza di marzo, vacanza primaverile, come chiamiamo noi, si sperava che sia, che avrebbe finito entro il primo aprile, ma ha continuato anche tanto. Abbiamo dovuto attivare la lezione online, come altre università di tutto il mondo, e questo metodo è stato facile a quelli che capiscono come funziona. È stato difficilissimo ai professori di certa età, che non capiscono nemmeno come funziona la mail. Quindi, i professori o docenti sono stati divisi nettamente in due. Quelli che non ce la facevano distribuivano i materiali da leggere e poi facevano presentare il rapporto. Questo metodo non ha avuto successo, anzi è stato criticato severissimo da parte degli studenti. Soprattutto dell'anno, primo anno. I studenti di primo anno non hanno frequentato il campus. Hanno visto solo una volta quando abbiamo fatto una prima riunione degli studenti di primo anno. E poi abbiamo subito dovuto attivare online. Allora, come dicevo io, la lezione online è triste. Prima di tutto, tristissimo. Ognuno sta a casa a seguire quello che si vede sullo schermo piccolino di proprio computer. Stare sempre a casa, sulla sedia, circondato dai genitori a volte, che controllano cosa sta facendo. Questo è stato veramente stressante. Solo che noi, piuttosto giovani o nuovi arrivi dell'università, abbiamo fatto un po' più passo avanti, tecnicamente. Cioè, volevamo un po' rendere questa lezione un po' più simpatico, direi. E tornando all'idea di scienze gastronomiche, anche l'idea di studiare a 360 gradi la gastronomia. Come diceva Carlin, il mondo della gastronomia, il mondo del cibo, è una complessità. Una situazione che possiamo chiamare la complessità. La complessità è diversa dalla confusione. La complessità sarebbe la ricchezza, come dice Carlin, la complessità. Non avete paura di complessità, come diceva lui al congresso di Sanremo, circa venti anni fa. aveva inventato quattro obiettivi di quelli che lavorano a Slow Food. Uno di questi è stato questo, non avere la paura alla complessità. La complessità è sinonimo di scienze gastronomiche. Noi dobbiamo gestire la complessità. Vogliamo avere un piattaforma complesso. Dove arrivano tutti quanti. Come una materia dell'università, tipo l'economia o agronomia, oppure chimica o fisica, queste cose storiche dovranno avere una unica strada da seguire. C'è anche la metodologia ben pensata da secoli, diciamo. La materia di scienze gastronomiche non è la strada. Anzi, non ha voluto avere la strada unica. Bisogna avere una mentalità di gestire la complessità. La piattaforma. La piattaforma è una complessità. Piattaforma complessa. Quindi, per esempio, al mio seminario non ho stabilito un tema da seguire per perfezionare una cosa o know-how o dei saperi ben pensati, organizzati. Non ho fatto così. Volevo far vedere il mondo della gastronomia più ampio possibile, diciamo. Allora, utilizzando questo nuovo metodo, nuovo strumento online, ho cominciato a chiamare tutti quanti, tutti gli amici di Slow Food o amici storici dell'Università dall'Italia. Per esempio, è venuto a parlare al nostro seminario Giacomo Moioli, che è stato il vicepresidente del Slow Food internazionale, è stato uno dei intellettuali più importanti dell'associazione. È stato per anni il braccio destro di Carlo Pettolini, è uno che pensa comunque. Ha parlato del Covid e il cibo. È stato un momento molto simpatico, perché cominciavo a parlare dell'attualità italiana prima di tutto, quando sono scomparsi le materie prime per fare il pane o pasta a casa. A casa cominciavano a fare il pane, hanno cominciato a riprendere la tecnica culinaria di casa, hanno cominciato a riutilizzare le mani nella cucina, hanno ripreso la tradizione casalinga. Quest'osservazione è stata molto positiva, perché a quell'epoca si parlava sempre male dell'epidemia. L'epidemia praticamente diventava una cosa che ha sostituito il talibano, oppure il terrorismo. I politici, oppure quelli che parlano alla TV, una volta si parlava noi stiamo contro il terrorismo, stiamo facendo questo, quello, quello, per contrastare con il terrorismo, è vero. Solo che questa parola di Covid ha subentrato perfettamente questa parola di terrorismo, che non se ne parlà nemmeno ormai. Questa ostilità banale che... l'epidemia fa parte della natura, che si ripete ogni cento, cento anni, solo che noi scordiamo sempre, ma guarda. Fa parte della natura del mondo, della natura di questo pianeta, che dobbiamo ricordare questa cosa. e alcuni cominciavano a pensare anche positivamente, è vero. Si cominciava a cucinare, se stanno sempre a casa, cominciano a lavorare alla cucina, a fare qualcosa di buono ai familiari, oppure hanno ripreso la vecchia tradizione della casa, hanno cominciato a fare la pasta, la pasta fatta a mano, queste cose, e sarebbe stato positivo, e questo è vero. E poi c'è stato un artista, un designer di Accademia delle Beghe Arti di Firenze, il mio carinissimo amico cominciava a parlare dell'estetica di Covid, cioè cominciava a fare dei modellini di Covid con vari colori, cominciavano a dire questa espansione, esplosione della natura. Volevo avere qualcosa di positivo comunque in quel momento, qualcosa di positivo che fa divertire un po' la gente. Allora, ho continuato comunque questa presenza, dico invito di Giacomo Mori, prima di tutto volevo sorprendere i miei ragazzi del seminario, ma ho voluto anche continuare. E' venuto a parlare un'antropologa di Marseille, Valeria Siniscarchi, che è stato la spia, è stato nominato da Caroline spia, che andava in giro negli eventi, nelle riunioni, congressi, ha documentato benissimo l'associazione Slow Food. Ho fatto parlare un po' della sua nuova teoria, che ha fondato una nuova materia accademica, che è stato ribattezzato Food Activism. Questo è stato interessante perché, essendo stato uno dentro dell'associazione Slow Food, non ho mai visto le cose negative, nettamente negative. non ho mai avuto questa idea di criticare il lato debole dell'associazione, queste cose, mi ha fatto aprire gli occhi. E' stato un bellissimo discorso che ha fatto lei. E poi ho invitato dalla Toscana un fargoniere, cioè bisogna calcolare sempre il fusorario, come ha detto prima il professore Corbo, e lui gestisce un'associazione di fargoniere che tramanda la tecnica antichissima. Prima era asiatica, poi c'è Federico II che ha scritto un libro sulla fargoniera. Ci ha fatto vedere come far volare il farcone, ma gigantesco proprio dalla mattina, prestissimo a chi appare il coniglietto che salta. E' stato spettacolare, veramente. Cioè, alla fine l'obiettivo di questa trasmissione puntava sul realismo, una cosa che possiamo dire è una specie di reality show gastronomico. volevo far vedere qualcosa di vivo. E poi ho fatto venire il ex sindaco della città di Cetala, e come si chiama lui? Il secondo squizzato, è il mio carinissimo amico, che è stato mitico sindaco della città, che ha tutelato prima di tutto il prodotto tradizionale della città, colatura. Quell'epoca, quel momento proprio, verso settembre mi sembra, hanno finalmente ottenuto il riconoscimento di OP, DOP. Come il prodotto culinario, come il prodotto ittico, è stato il primo caso di diventare DOP in Europa, DOP in europeo comunque. quindi era un momento da festeggiare, ma non si poteva festeggiare. Ho scritto anche un articolo su questa faccenda, loro hanno attivato anche la metodologia sensoriale, per riconoscere l'autenticità del prodotto. La colatura è salata, tutto qui, ma alcuni riescono a specificare la caratteristica del prodotto. Poi è venuto la cuoca, lo chef di Sansepolcro, che gestisce il ristorante storico della città, il ristorante fiorentino, che tramanda le licette tradizionali, di nascimentali soprattutto, perché lei è stata la figlia di due cuochi importanti della città, erano due figure simboliche di Sansepolcro, solo che tutti e due sono morti. È rimasto sola. Lei a continuare la gestione del ristorante, ma è diventato importante e anche mediaticamente si presenta spesso all'attitude a spiegare la cultura culinaria rinascimentale. Lei, come al solito, se si è alzato la mattina prestissimo, perché la prossima missione iniziamo sempre alle sei oppure cinque di mattina, orario italiano. Lei si è vestita in principessa, cioè a Sansepolcro si fa questa settimana rinascimentale in cui si fa il banchetto rinascimentale con i costumi divisi rinascimentali, con il ballo, con la cucina rinascimentale, ma studiato bene, bene, bene. I ristoranti devono studiare un piatto nell'arco di un anno, a presentare il momento di convivio, come chiamano loro, in un banchetto rinascimentale, e poi quelli che ballano devono studiare, studiare il ballo rinascimentale con i costumi. I costumi vengono studiati accuratamente da un salto di Sansepolcro, prendendo gli esempi da Giafreschi di Piero della Francesca. è stato un momento commovente, perché ci conosciamo da 20 anni, quando c'erano ancora mamma e papà, che erano simpatici anche loro. Prima di tutto, loro sono stati in Giappone al momento dell'inaugurazione, il giorno dell'inaugurazione della mega manifestazione di cui ho parlato prima, l'Italia in Giappone nel 2001. loro hanno fatto un banchetto rinascimentale all'interno dell'albergo più lussuoso della città di Tokyo, con la cucina rinascimentale, con 52 cittadini di Sansepolcro. Quindi, ho fatto parlare anche di questa faccenda. Quasi, quasi, sono passati 40 minuti, forse, sto parlando così, a caso, forse, non ho stabilito l'agenda per bene, ma siamo stati così nel momento di Covid e poi continua ancora. Adesso sta iniziando il nuovo anno accademico, 2021. L'università ha deciso di abbassare un po' la guardia. Gli studenti possono avere le lezioni alla presenza nell'aula, solo che a primaverine per sei mesi abbiamo questa regola di fare almeno sei lezioni alla presenza su 15 lezioni. quindi un docente potrebbe fare interamente alla presenza, ma questo io sono un po' a o dubbio di aprire così drasticamente all'improvviso l'università, non si sa mai, perché i giovani possono facilmente portare in giro l'epidemia e non si ammalano, questo è il grande problema. Abbiamo avuto sempre questa questa paura di diffondere tra i giovani e poi contagiare i familiari dei giovani, ma stranamente il nostro governo ha sforzato di far aprire l'università e dicendo, cioè rispondendo alla richiesta ai reclami dai reclami dei genitori e studenti che non possono, non possiamo andare all'università pagando quella cifra, alta, non possiamo utilizzare l'università, non possiamo avere gli amici o ragazzi e ragazzi e il governo ha voluto rispondere positivamente a quella domanda senza, secondo me, senza avere una visione corretta, scientifica. L'università sarà aperta e poi a settembre come abbiamo fatto due anni fa stiamo organizzando uno stagio in Italia solo che io vedo già male non ce la facciamo andare lì fisicamente trascinando una pentina di studenti non voglio farlo quindi ho deciso di fare una settimana intera lo stagio lo stagio virtuale italiano anche questa volta invitiamo dall'Italia tutti gli operatori del settore gastronomico poi chiamiamo anche lo chef della cucina italiana per far cucinare alla nostra mensa come fate voi a nome di academic table vogliamo fare anche noi questa cosa quindi stiamo facendo comunque qualcosa per andare avanti per soddisfare gli studenti ma senza avere troppi effetti collaterali dell'apertura dell'università ora vediamo come andrà a finire poi adattiamoci al momento alla realtà all'andamento del covid questa è la nostra idea se avete delle domande scrivetemi grazie grazie mille Hida per la tua bellissima conferenza perché veramente ci hai dato un panorama molto ampio della situazione in Giappone sia dal punto di vista di slow food del food e anche di questa condizione delicata in cui noi viviamo dal punto di vista della pandemia anche da noi ovviamente insomma non è così semplice gestire la didattica a distanza la cosiddetta dad come si dice in Italia anche se tutto sommato poi i risultati sono stati abbastanza buoni ovvio che però un conto è insegnare da casa un conto è poter avere un'interazione diretta e qui come noi insegno ormai da tanti anni sa insomma i coli questa differenza e direi che da questo punto di vista sicuramente io credo ci saranno sicuramente molte molte domande e adesso io manderò poi se vuoi scrivere anche tu insomma il tuo indirizzo mail magari sulla chat prima di lasciarci così perché non è semplicissimo diciamo così riusciamo a come dire a tenere un collegamento poi noi ci auguriamo di vederti di nuovo con Lenzo come è stato come è accaduto in altri contesti e direi anche complimenti perché hai un italiano assolutamente molto buono so che sei stato il nostro paese per tanti anni e certamente diciamo che hai ormai acquisito una pratica del parlare in italiano molto molto importante ecco come vedete chiudiamo questa conferenza con l'indirizzo e sono convinto che ti arriveranno molte grazie davvero di tutto sciida molto molte grazie e arrivederci a presto grazie a tutti grazie a tutti ciao